Cosa hai scelto? 1968 Jacqueline Vedova Kennedy si risposa con il suo ricco armatore greco Aristotele Onassis intanto le coppie italiane ballano in liscio con Raoul Casadei mentre in tv il volto dell'anno è quello del colonnello Edmondo Bernacca con le sue attesissime previsioni del tempo Indimenticato e indimenticabile Nel 68 il grande Maurizio Arceri cantava 5 minuti e poi 5 minuti 5 minuti e un gente partirà portandoti via l'amore 5 minuti e un man poi anche tu partirai io io non so che darai per parlarti ma tu non mi ascolti non mi ascolti non ci non poi in l'upper non che non descend聯 Maurizio Orceri, potrei dire una vita per la musica Prima Iniudada, poi Maurizio De Iniudada, poi Maurizio Orceri, poi Crisma Con Cristina che saluto, con grande affetto Mi ricordo quel fantastico Many Kisses che mi piaceva un sacco degli anni 80 E poi nel 70 un altro grande successo, tra i tanti, le tante cose perché sei sempre in movimento Sempre alla ricerca di sono d'età nuove, di musica nuove e sempre avanti Un altro successo del 70 era L'amore è blu, ci vuole un accenno Ci vuole un accenno, ci vuole, ci vuole L'amore è blu, ma non per me, per me ci sei Tu, oh tu, non ami di me Tu, oh tu, non mi dai che lacrime E' un mondo tutto grigioso Oh no, oh no, oh no, 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 no L'amore è blu, Maurizio Arceri Grazie Maurizio